Musica Un cordiale saluto, buongiorno a tutti, ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV questa è la rassegna stampa Occhio ai giornali che come tutte le mattine dal lunedì al sabato va in onda in diretta alle 7.30 poi in replica rullo fino alle 8.30 alle 9.10 alle 13.30 cominciamo dunque come sempre con il santo del giorno oggi la chiesa ricorda la beata Eugenia Picco il sole è sorto alle 6.36 e tramonterà alle 19.37 il tempo intanto dal meteo.it sole ma mercoledì allarme e alluvioni in Sicilia tempo che dunque rimarrà stabile per quanto riguarda il centro Italia farà fresco nelle ore anche notturne ma vedete invece il brutto il brutto tempo arriverà nel sud Italia nella giornata di mercoledì con tantissima pioggia nella regione Sicilia e non solo andiamo adesso a leggere i giornali cominciamo dalla cronaca il resto del Carlino così come gli altri giornali riferiscono di un incidente in cui è rimasto vittima il cugino di Bruno Giannotti noto oculista in rianimazione Gabriele Giannotti guardia medica a Durbino e oculista incastrato nella sua panda nell'incidente di sabato stava viaggiando in strada delle regioni alle 20 alle 8 di sera di sabato sera si chiama Gabriele Giannotti classe 58 residente a Durbino guardia medica e medico di famiglia il cugino come dicevamo di Bruno Giannotti vicino al distributore di metano c'è stato questo schianto è stato estratto dalle lamire grazie ai vigili del fuoco non ci sono notizie nemmeno sulla fuga di questi due fidanzatini che sono per il momento come volatilizzati a Amine 18 anni compiuti da poco lo vedete nella fotografia in questa immagine che è stata tratta dal suo profilo di Facebook sia di Amine che della sua fidanzatina scomparsi tra l'altro da martedì scorso lui è di Tavuglia dove abita con i genitori non si sa nulla i due ragazzi si sono come volatilizzati e le poche segnalazioni che sono arrivate nell'ultima ore alla famiglia insomma non danno al momento non hanno portato da nessuna parte dalle pagine del Corriere del resto del carino di questa mattina anche le fotografie della giornata della festa dell'Aquilone che si è svolta alle Cesane la contrada del monte vince la festa dell'Aquilone migliaia di persone per la sessantesima edizione poi da Fano invece la città e il ricordo alla memoria di Aldo Deli il funerale sarà domani pomeriggio per 15 anni la sua voce in consiglio comunale il ricordo di generazioni del partigiano storico e politico che amava la città e c'è il resto del carino pubblica sia l'intervento di Alberto Berardi che dice questo è un annus orribilis e quello di Enzo Guccioni addio amico e maestro ma ci sono anche altri due addi intanto oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Pio X i funerali di Daniele Giacomini detto bibo, allenatore di volley e professore di educazione fisica alla Nuti quindi oggi pomeriggio alle 15 a San Pio X e poi le esequie sempre oggi pomeriggio ma alle 16, alle 4 del pomeriggio in cattedrale quelle di Ezio Tecchi un altro appassionato della nostra città amante della nostra città imprenditore appassionato di numismatiche della storia di Fano scomparso prematuramente all'età di 69 anni di tutt'altro genere la pagina di Pesaro giorno e notte dedicata agli spettacoli sul resto del carino il club dei brutti a Luigi Strarip il presidente uscente è stato confermato con un gran numero di voti apriamo adesso la pagina dello sport per il Fano che ieri ha vinto ha debuttato con un 3 a 1 in casa contro il Giulianova l'alma dei tre tenori Riecco, Gucci, Borrelli e Sivilla il risultato di 3 a 1 il Corriere Adriatico tutto il patrimonio all'ex badante siamo sulla pagina del Corriere di Pesaro c'è un secondo testamento del maestro Melani che esclude la città dall'eredità e a sorpreso ha nominato erede universali la sua ex badante georgiana e la sorella di lei il baritono pesarese è scomparso lo scorso 25 agosto all'età di 98 anni ancora dalla pagina di Fano invece del Corriere Cecchini parliamo di Carnevale confrontiamoci ma decidiamo noi il presidente della Carnevalesca ha disposto ad ascoltare tutti ma rivendica la responsabilità economica dell'evento il nostro ente valuterà in base ai soldi se fare uso o meno delle proposte volte ad allargare gli orizzonti si è deciso di fare un grande clamore per niente dato che le disponibilità finanziarie sono quelle sopra cocaina nel giornale arrestato ai passeggi per sviare i sospetti leggeva il quotidiano che però poi i militari andando vicino guardandolo bene insomma avevano notato che era del giorno prima quindi era una scusa che reggeva poco quella di leggere il giornale in realtà dentro nascondeva 42 grammi di droga tra le sigarette poi ancora la pagina sportiva Vispesero contro la Folgore 1 a 1 Costantino rimette in piedi la visse riprende nel recupero la Folgore che era andata in vantaggio con Cico apriamo adesso invece il messaggero Profughi superato il tetto altri immigrati si preparano ad arrivare ad essere accolti saranno in tutto 540 domani in prefettura si firma un nuovo accordo per impiegarli come volontari oggi ci sono le verifiche tecniche del Santa Marta la scuola di Pesero il giorno dell'assemblea l'assemblea dei genitori degli alunni e anche dei docenti dell'alberghiero l'appuntamento è alle 17.30 per discutere appunto del caso Santa Marta la scuola che è inagibile dopo i crolli al soffitto anche qui sulla Montellabattese l'immagine terribile di questo schianto dove è rimasta ferita anche la moglie di appunto Giannotti poi nuovo incontro per dire no alle trivellazioni nel mare Adriatico l'assemblea è di fuori tempo a Mondolfo con il costituzionalista di Salvatore ancora dal giornale romano spacciatore cerca di sfuggire alla cattura nascosto dietro il giornale del giorno prima 42 grammi è la sostanza sequestrata dal nucleo operativo radiomobile dei carabinieri di Fano impegnati in servizio antidroga ai passeggi di Fano chiudiamo con l'ultima pagina di Pesaro e provincia del messaggero ultima chiamata per il Santa Marta come dicevamo oggi pomeriggio ci sono c'è questo incontro tra genitori, alunni e docenti in assemblea poi schianto lungo la Montellabattese resta grave il conducente della Panda solo ferite lievi invece per la moglie la polizia municipale ascolterà i testimoni per accertare la la dinamica di quello che appunto è accaduto ed è successo ci rivedremo stasera alle 20 e 30 per occhio alla notizia intanto grazie per averci seguito buona giornata a tutti grazie a tutti